Max Petronilli, conclusa con successo insieme in musica da Lumiere, mentre va avanti anche la tua attività didattica all'OMC, tu però sei già pronto ad altre iniziative. La prima, o meglio quella di cui parliamo, è quella che si terrà alla cittadella. Di che cosa parliamo? Parliamo di un appuntamento che probabilmente piacerà a molti, spero che verranno tante persone, che è Cantando Sanremo. Ed è un concerto che terrò al Giardino della Cittadella della Musica, per il quale ringrazio già il sindaco Ernesto Tedesco, l'assessore Simona Galizia e la dirigente, parlo di lei, della dottoressa Gabriella Brullini, per avermi voluto in questa bellissima manifestazione che è estate in giardino. Infatti proprio nel Giardino della Cittadella della Musica faremo questo concerto io ed altri otto musicisti, Fabio Caponi, Antoni Caruana, Alessio Bonucci, Felice Tazzini, Giulia Valentina Leonardo, Ruben Schiavo, Gino Fedeli e Chiara Petronilli. che sono otto musicisti che faranno da cornici a questa serata che si preannuncia per me una bellissima serata perché è improntata proprio su tutti i brani, una selezione naturalmente dei brani delle esattate tre edizioni del Festival di Sanremo. Sanremo che ti ricorda anche cose molto belle. Sì, Sanremo mi ricorda cose bellissime, il fatto di essere andato a Sanremo proprio nelle settimane del Festival, la fortuna di aver potuto cantare in manifestazione del Giubileo proprio sul palco dell'Ariston e diciamo l'area del Festival è un'area particolare, infatti io nel post che ho fatto sui social l'ho scritto perché Sanremo è Sanremo e non credo che nessuno di voi non abbia concluso con taratatatatara perché ti viene proprio naturale. Quindi invitiamo tutti insomma. Io invito tutti a venire, l'entrata è libera, all'inizio del concerto sarà le 21.30 il giorno 13 luglio e tutti insieme cantando Sanremo.